Una gas sales volley incerottata ma galvanizzata dalla vittoria al tie-break ottenuto domenica contro Vibo Valencia si prepara a fare visita questa sera alle 20.30 alla Corazzata Trentino, squadra che per il momento ha collezionato esclusivamente vittorie. Senza il suo top player Gabriele Nelli a riposo precauzionale dopo un recente infortunio e il gioia Alessandro Tondo che darà forfè per un fastidio alla spalla, coach Gardini schiererà come opposto Capitanfei ad un passo dal record di punti in Superlega. Nonostante gli uomini contati però il DS Biancorosso Aldobinaghi intervenuto ieri sera a zona sport si è detto fiducioso. Ce la giochiamo, abbiamo visto che ha fatto un po' fatica con Verona quindi questo rivaluta anche la nostra sconfitta in Veneto perché Verona ha rischiato di vincere a Trento per cui noi abbiamo rischiato di vincere a Verona diciamo che un lato positivo possiamo guardarlo in questo caso. Certamente è un momento importante perché il campionato è molto circoscritto si gioca praticamente ogni due o tre giorni. Certamente giocare contro Trento avremo degli stimoli più che grandi diciamo forse anche qualcosina nel senso qualche pressione in meno perché con Vibo la pressione era discreta perché era una partita che noi dovevamo vincere non dico per forza ma quasi. Nel corso della trasmissione condotta dal giornalista Marcello Tassi spazio anche a rugby e pallacanestro oltre che al padel con il piacentino Simone Cremona fresco campione europeo nella competizione a squadre. Le repliche della puntata del martedì di Zona Sport vanno in onda su Tele Libertà ogni mercoledì alle 9 alle 23 e ogni giovedì alle 18.